Questo è un dato, ci sono degli altri strumenti, non so, Lead Champion mi viene in mente, lo conoscete Lead Champion? A ogni evento ci sono quali ragazzi Lead Champion. Ok, sì, sì, no, non sono male, ci sono altri strumenti che vi danno dati simili, ma si basano per esempio sull'indirizzo IP di provenienza della visita, quindi hanno, diciamo, qualche imprecisione, questo si basa sul profilo LinkedIn del visitatore, quindi sono eccezionali. Avete aree temporali, quindi potete vedere la fascia temporale che vi interessa e potete vedere una caratteristica professionale, la qualifica, l'azienda, il settore, l'anzianità, l'area geografica, ma quella ce l'avete anche su Google Analytics, non potete incrociare due dati, questo è l'unico peccato, cioè sarebbe fighissimo se poteste dire nome azienda e qualifica, quindi di Alfa Omega mi ha guardato magari lo stagista, ma di Megapix mi ha guardato il CEO, no, quello non si può sapere, per ora, insomma, i dati ci sono, si potrebbe, però per la privacy sarebbe un filino intrusivo, però è comunque tanta roba, è gratuito, perché non farlo? Come si configura, scusami? Una volta che metti l'insight tag, che l'insight tag è verificato, cioè che incomincia ad acquisire il flusso di dati, si crea automaticamente. Allora, finalmente arriviamo alla selezione del formato, ricordate che stiamo vedendo di vari step era obiettivo, punto numero 1, audience, punto numero 2, adesso si dice, bene, hai deciso che vuoi fare conversione, hai deciso che vuoi farlo verso questa audience, definita come l'abbiamo definita, che formato vuoi mostrare? Qui ve li mostro tutti, ma in realtà voi non li vedrete praticamente mai tutti, perché in base all'obiettivo ve ne mostrerà alcuni e non altri, chiaramente, no? Perché se l'obiettivo è visualizzazione video non vi mostrerà il formato, annuncio formato messaggio, chiaramente, però questi sono quelli disponibili. Allora, l'annuncio di testo abbiamo già detto che era un formato che non ci interessa, io ho sempre avuto grandi risultati, ad esempio con l'immagine singola, per me è quella che funziona di più, se chiaramente avete un visual molto forte. I nostri esperimenti fatti proprio con Barbara, tra l'altro abbiamo fatto una bitest tra immagine singola e carosello, che LinkedIn chiama formato modulo, che non ha nessun senso chiamarlo formato modulo, per noi è stato deludente, ad esempio, quell'esperimento, perché, non so se mi confermi, il modulo in realtà non converte, magari lo guardano, ma non converte, le persone si perdono nello sfogliare il modulo e non cliccano, nonostante ci sono tante call to action, video buone performance, ma dipende dall'obiettivo, ad esempio può essere anche molto costosa la singola view e potrebbe convertire poco, però in generale il video sono formato di comunicazione preferito, per cui perché no?